Il corso ITS in comunicazione e marketing digitale è un percorso biennale post diploma che si rivolge agli studenti che abbiano completato un percorso quinquennale di scuole superiori è caratterizzato per essere un percorso di tipo professionalizzante quindi fornisce competenze tecniche altamente innovative e competenze relazionali utili per entrare nel mondo del lavoro. Il corso infatti è caratterizzato proprio per uno stretto rapporto con le aziende del settore di riferimento aziende che ci coinvolgono anche in progetti di comunicazione quindi progetti nei quali possiamo metterci in gioco e sperimentare le nostre capacità di apprendimento sul campo. Abbiamo partecipato a diversi progetti, progetti finalizzati a creare strategie di comunicazione per aumentare l'engagement abbiamo partecipato anche a un seminario all'Università Salesiana Iusve un seminario che era tutto indetto e interessato a spiegarci alcuni aspetti della comunicazione in particolare la semiotica, alcune strategie di comunicazione. Abbiamo incontrato imprenditori e conosciuto anche delle start-up del territorio emiliano-romagnole che ci hanno spiegato le loro strategie e i loro modelli di business sia in aula sia che noi siamo andati direttamente nei loro uffici per conoscere e toccare con mano le loro realtà. Il percorso è un biennale di 2000 ore e prevede l'alternanza di moduli professionalizzanti. A questi moduli molto tecnici si alternano dei moduli orientati a sviluppare competenze di tipo soft quindi le competenze di tipo relazionale. I moduli didattici professionalizzanti sono social media strategy, quindi come comunicare sui social efficacemente come creare campagne di advertising su Facebook, Instagram e altri tipi di social network abbiamo un modulo di grafica, un modulo di video editing e oltre a queste materie professionalizzanti verticali abbiamo anche materie che riguardano le soft skills, quindi public speaking, parlare in pubblico e anche team working che approfondisce invece le dinamiche di comunicazione e relazione interpersonale quindi all'interno del gruppo. Ho scelto questo corso perché mi interessava avvicinarmi al mondo della comunicazione e del marketing digitale in particolare al mondo dei social, nonostante io provenga da un percorso di studio liceale differente ho trovato in questo corso la possibilità di conciliare la teoria alla pratica grazie ai mesi di stage in quanto volevo conoscere più da vicino le dinamiche di questo settore. Frequentando questo corso abbiamo imparato soprattutto dinamiche lavorative grazie all'esperienza dei docenti che operano direttamente nel settore, sono dei professionisti. Oltre a ciò abbiamo analizzato modali di business di alcune delle start-up più interessanti che operano nel settore abbiamo inoltre approfondito le dinamiche sulla comunicazione interpersonale quindi proprio come collaborare tra di noi. Con i docenti c'è un rapporto comunque molto confidenziale, non è un rapporto freddo infatti sono sempre disponibili anche per chiedere pareri personali per quanto riguarda anche progetti personali. Uno dei motivi per cui scegliere questo corso è legato soprattutto alle aspettative dopo un percorso di formazione scolastica legate appunto all'ingresso nel mondo del lavoro. Non per tutti l'università è la giusta soluzione, a volte scegliere un percorso più professionalizzante quindi con un approccio più pratico all'apprendimento e all'acquisizione di competenze può essere vincente soprattutto per chi appunto proviene da un percorso di tipo tecnico in cui ha già impostato questa forma mentis. Grazie. 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 Grazie.